Mamma, mamma, mi porti qualcosa? D'accordo, ma solo una cosina, eh? Vorrei qualche cosa di nuovo, un gioco e del cioccolato. Ma caro, mi stai chiedendo tre cose insieme, lo sai che non è possibile? Ma sì che è possibile! Kinder Sorpresa è un'emozione sempre nuova, un bel gioco e buon cioccolato! Mmm, che buona idea! Wow, Kinder Sorpresa! E ora ragazzi c'è una novità, una sorpresa su cinque, è un personaggio Walt Disney!